Arrestato uno dei due coltivatori della piantagione di marijuana rinvenuta lo scorso 11 giugno nelle campagne di Borgetto, era in fuga da nove giorni. Truffa all'Impes in due rinviati a giudizio, il processo prenderà il via il prossimo 5 ottobre. Delocalizzazione della distilleria Bertolino, no alla firma della convenzione. Presentata la mozione di sfiducia a Lombardo, targata PD UDC, tre deputati democratici però non firmano per Cracolici, il problema non è quando votare la mozione di sfiducia ma quando andare a votare. Buonasera, bentrovati con l'informazione di TV7. Apriamo il telegiornale con la pagina di cronaca, lo dicevamo nel sommario di apertura. È durata nove giorni la fuga di Francesco Frisina, 53 anni di Borgetto, è uno dei due coltivatori della piantagione di marijuana rinvenuta lo scorso 11 giugno nelle campagne di Borgetto. Sentiamo i particolari nel servizio. Rinvenuta dai carabinieri della stazione di Borgetto una piantagione di canapa indiana, ad essere tratto in arresto Francesco Frisina, 53 anni di Borgetto, allevatore pregiudicato. Le indagini risalgono allo scorso 11 giugno, quando i carabinieri, nel corso di un servizio volto al ritrovamento di illecite piantagioni, rinvenivano su un terreno agricolo tra le campagne Montegradara due persone intente ad estirpare una piantagione di canapa indiana, composta da oltre mille piante, aventi un'altezza variabile tra i 50 cm e mezzo metro. I due legittimi coltivatori, alla vista dei carabinieri, si davano precipitosamente alla fuga, a piedi per le campagne confinanti, rendendosi reperibili. I militari si ponevano all'inseguimento dei due fuggitivi, richiedendo nella circostanza l'ausilio di un elicottero del nono all'inucleo di Palermo, tramite la centrale operativa del comando provinciale di Palermo, ma la localizzazione dei due uomini era ostacolata alla fitta piantagione. Tutta la piantagione è stata posta sotto sequestra ed estirpata, mentre proseguivano le indagini volte all'individuazione e alla cattura dei due coltivatori. Fin quando ieri i carabinieri della stazione di Borgetto, unitamente colleghi della compagnia di Partinico, hanno rintracciato nella contrada Platti-Soprana uno dei due uomini datisi alla fuga, Francesco Frisina. L'uomo è stato sottoposto a fermo per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso e associato presso la casa circondariale di Palermo-Lucciardone. Intanto continuano le indagini per individuare il complice del Frisina. Ci occupiamo adesso di giudiziaria e parliamo della truffa all'Inps. In due sono stati rinviati a giudizio, ci sono coinvolti alcune persone di Partinico. Il processo prenderà il via il prossimo 5 ottobre. Sentiamo. Bastava un clic e la finta vedova incassava la pensione del marito mai deceduto. E' solo uno dei casi smascherati dai carabinieri nell'inchiesta sullo raggiro all'Inps che a marzo scorso ha portato a sei arresti. Due delle persone finite in manette sono state rinviate a giudizio dal gruppo di Palermo Sergio Zino, mentre Venera Ligottino ha patteggiato un anno. Il 5 ottobre, davanti alla terza sezione penale, si svolgerà il processo a Giovanni Antonio Noto e Gioacchino Appresti. I due saranno processati assieme a Simone Saputo, ex dirigente dell'Inps, oggi in pensione. Antonino Virga, responsabile del patronato in forma famiglia di Partinico, nonché consigliere comunale. E Giovanni Praia, che erano stati rinviati a giudizio nella scorsa udienza. La mente della banda era secondo IPM Simone Saputo. Sarebbe stato lui a taroccare il cervellone elettronico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. In totale sarebbero 1 milione e 800 mila euro i soldi delle pensioni intascate indebitamente. L'indagine nasce dalla denuncia di una donna a cui è arrivato un assegno mensile senza che ne avesse mai fatto richiesta. La banda aveva sbagliato i dati della persona che doveva essere favorita. I componenti della banda avrebbero intascato una percentuale sulle pratiche che andavano a buon fine. Continuiamo con la pagina di cronaca. Un giovane di 20 anni, Emanuele Di Peri, è stato arrestato dai carabinieri a Misilmeri mentre spacciava dosi di ascici a giovani acquirenti. Sentiamo il servizio. Sorpreso dai carabinieri di Misilmeri mentre smerciava dosi di ascici a giovani acquirenti. Ad essere tratto in arresto Emanuele Di Peri, 20 anni di Bolognetta, disoccupato con precedenti specifici. Il via all'operazione è scattato ieri mattina quando la pattuglia del nucleo radiomobile della locale compagnia cittadina nel corso di un servizio di controllo del territorio ha accolto il giovane nella fragranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente. Il pusher è stato sorpreso mentre cedeva singole dosi di sostanza stupefacente del tipo ascic ad un giovane acquirente, 23enne del luogo. In particolare erano state cedute due dosi mentre le altre le teneva addosso. Nel corso della successiva perquisizione personale sono stati rinvenuti nella materiale disponibilità del Di Peri ulteriori 11 grammi di ascic, suddivise in sette stecchette confezionata con cellofan trasparente e la somma di euro 300 in manconote di vario taglio, ritenute provento dell'attività di spaccio, il tutto posto sotto sequestro. Il giovane acquirente è stato segnalato alla prefettura di Palermo per uso personale non terapeutico di stupefacenti, mentre il pusher tratto in arresto è stato sottoposto ieri a rito direttissimo disposto dall'autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell'arresto l'uomo è stato condannato a otto mesi di reclusione e 2000 euro di multa con sospensione condizionale della pena. E adesso parliamo della vicenda di Gaetano Lupo, consigliere comunale di Corleone, presidente di una cooperativa che gestisce una casa di riposo. L'uomo di 40 anni è stato pestato davanti al comune. Sentiamo il perché in questo servizio. Pestato a sangue davanti il comune di Corleone, il consigliere quarantenne Gaetano Lupo, presidente di una cooperativa che gestisce una casa di riposo. Ad aspettarlo davanti l'aula consigliare è un'intera famiglia proprietaria di un'agenzia di onoranze funebri. Si tratta di Luigi Nicosia e i suoi due figli, Franco e Giuseppe, quest'ultimo consigliere di maggioranza. Da una semplice aggressione verbale fatta di minacce ed insulti, gli uomini sono ben presto passati ai fatti, pestando a sangue il consigliere trasportato poi in ospedale. Dai risultati e le prime indagini è emerso che la causa dell'aggressione è da rinvenire screzi e problemi riconducibili alle attività dei due protagonisti. In particolare a scatenare l'ira degli aggressori, il fatto che i familiari di alcuni ospiti e la casa di riposo gestita dal lupo dopo la morte dei loro parenti si erano rivolti ad altre agenzie. Da mesi il mio cliente è vittima di minacce e di altri fatti spiacevoli, ha fermato l'avvocato di lupo Gaetano La Venuta. Un paio di mesi fa lui ed il suocero hanno subito un furto in casa nello stesso giorno. Al lupo hanno portato via 10.000 euro in contanti e anche di oggetti preziosi, mentre al suocero sono stati sottratti tutti i gioielli di famiglia. Una coincidenza abbastanza strana, aggiunge l'avvocato La Venuta. Martedì sera è avvenuta anche la spedizione punitiva. Lupo si trovava poco prima delle venti davanti l'aula consigliare, in via Carabiniere Bovi, insieme ad altre persone, alle quali è stato chiesto di allontanarsi, racconta ancora l'avvocato. Poi hanno cominciato a minacciare il mio cliente. Lui non ha reagito, anzi si è voltato e ha cercato di andarsene, ma è stato aggredito alle spalle da uno dei tre che con un pugno lo ha atterrato. Cadendo, lupo ha pure sbattuto la testa, perdendo i sensi per alcuni istanti. Poi sarebbe stato tenuto da Luigi Nicosia, mentre il figlio Franco lo prendeva a calci e pugni. E quando i presenti sono riusciti a liberarlo, gli è stato inferto anche un altro calcio alla schiena dal consigliere comunale. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Corleone, i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico ed altri traumi in tutto il corpo, con contusioni, lividi, vertigini e ieri è stato ricoverato per un problema all'occhio. La seduta è stata sospesa dal presidente del consiglio comunale, mentre in attesa del referto i carabinieri hanno cominciato a raccogliere le numerose testimonianze dei presenti. E adesso, anche oggi, ci occupiamo della delocalizzazione della distilleria Bertolino, la convenzione firmata tra la proprietaria dell'azienda di Viale dei Platani e il Comune, questa sera a Prode in consiglio comunale. Intanto ieri c'è stato un incontro con un esperto del settore. Vediamo il servizio. Benobbiundo, gli impianti che utilizzano Biomasse possono essere una risorsa per il territorio, ma sono impianti che se non controllati possono essere anche potenzialmente molto inquinanti? Gli impianti di produzione di energia o di carburanti da Biomasse sono impianti tecnologicamente molto avanzati, che possono diventare inquinanti soltanto per motivi di speculazione economica, cioè se non vengono adottate tutte le misure precauzionali. Poi ci sono impianti che economicamente sono più vantaggiosi, ma sono svantaggiosi per il territorio, e impianti invece che permettono uno sviluppo armonico del territorio, migliorano le condizioni delle aziende agricole, migliorano le condizioni lavorative, aumentano l'occupazione e riducono il consumo di acqua e altro. La questione non è sulle tecnologie del Biomasse o sulle Biomasse, ma la questione è se è uno sviluppo che parte dalle aziende del territorio alla popolazione del territorio o se è qualcosa che viene calato dall'alto per finalità di produzione, di profitto che non tiene conto delle esigenze della popolazione. Siamo contrari a che questa cosa resti nascosta, così per come è stata proposta dall'amministrazione comunale. Lo dicono tutti, prima ci dite cosa volete fare a Sant'Anna e a Bosco Falconeria e poi si può discutere. 84-28 anni di battaglie, il rischio è di ricominciare da capo? Io dico il rischio, la certezza non l'abbiamo, lo vedremo, ma sia chiaro che chiunque pensa, noi che ci siamo nell'84 scontrati a Partinico, noi comunisti, con i poteri forti dell'Abertolino, quando l'Abertolino aveva accanto il cognato Sino, ministro dei lavori pubblici per conto di Cosa Nostra. Quando a Partinico la mafia era mafia, non erano i Fardazza, era mafia, cioè quella ad altissimo livello, e quando a governare questa città non erano sicuramente questi improvvisati, piccoli affaristi, ma c'era una democrazia cristiana con una classe dirigente notevole e con un contorno di partiti notevolissimi, come il Partito Socialista e il Partito Repubblicano di Salvatore Cintola, che facevano da ostacolo. Facevano da ostacolo. Abbiamo condotto una battaglia partendo da pochi e coinvolgendo la città. Ricominceremo. Intanto diciamo molto chiaramente che questa questione non è una questione soltanto che riguarda la città di Partinico, ma riguarda, per quanto riguarda il problema degli scarichi, cioè noi siamo convinti che lei non potrà mai scaricare il reflu industriale dentro l'invaso Poma, per tanta ragione che sarebbe lungo spiegare, ma proprio perché a due passi c'è poi il ciurromurro che finisce sul loiato e loiato finisce a metà, diciamo, sulla spiaggia di balestrata e di trappeto, beh, incomincieremo anche, come abbiamo fatto nel 1984, con i volantini distribuiti a Terrasina, eccetera, faremo alla stessa maniera con balestrate, stiano certi che o presentano il progetto e ci dicono cosa vogliono fare, oppure avranno pane per i loro denti. Ha tanto sacco a Bosco Falconeria, a Sant'Anna? No. Lì vogliamo sapere cosa volete fare e poi, sulla base delle cose che dite che volete fare e date certezze e convincimenti, saremo disponibili a dare anche la nostra opinione, se è il caso anche positiva. Sabato 7 luglio alle ore 18, presentazione del libro Segreti di mafia di Francesco Billeci. L'evento è in programma alla Real Cantina Borbonica di Partinico. Mi ricordo che al termine del telegiornale ci sarà uno speciale sulla problematica che riguarda la delocalizzazione della distilleria Bertolino. Sentiremo più pareri della conferenza che si è tenuta ieri a Partinico al convento dei Carmeritani. Ancora cronaca, parliamo di Alcamo. Uno spacciatore è stato arrestato dai carabinieri, era invischiato nell'operazione Piazza Pulita che aveva portato all'arresto di 19 persone. Sentiamo i particolari nel servizio. I fatti risalgono al 2005 e al 2009, ma solo ieri è stata emessa l'ordinanza di custodia catolare in carcere per espiazione e pena e così Antonio Siragusa, 29 anni, pluripregiudicato alcamese, è stato arrestato dai militari della Compagnia Carabinieri di Alcamo che hanno dato esecuzione al provvedimento della Procura della Repubblica di Palermo. Nino Spaccio, questo è il nome che gli era stato attribuito e dai complici che nel settembre del 2008 intercettati dai carabinieri di Alcamo lo indicavano quale punto di riferimento per la distribuzione di sostanza stupefacente in paese. L'operazione Piazza Pulita che aveva portato all'arresto di 19 persone aveva svelato un traffico fiorente di sostanza stupefacente che veniva distribuita su tutto il territorio ad Alcamese e in quello di Castellammare coinvolgendo più di 500 alcamesi nelle veste di assuntori. Ad Antonio Siracusa fu contestato oltre al reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio anche il reato di estorsione atteso che Nino per recuperare dei crediti nei confronti di acquirenti di sostanze stupefacenti si erano fatto consegnare con la forza beni di proprietà di quest'ultimi. L'uomo, dallo scorso mese di gennaio, era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno presso la propria abitazione di Alcamo. Siracusa, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Trapani dove dovrà scontare la pena di tre anni, nove mesi e due giorni. Ci sono buone notizie nel campo della pesca e dell'acquacoltura perché dalla regione sono in arrivo 5 milioni di aiuti per il caro gasolio. Sentiamo i particolari nel servizio. In arrivo 5 milioni e 300 mila euro di aiuti per le imprese di pesca e di acquacoltura siciliane come concorso alla copertura delle spese sostenute per il consumo di carburante dal 2009 al 2011. Il Dipartimento regionale degli interventi per la pesca ha impegnato circa 2 milioni e 300 mila euro per finanziare il saldo dei contributi del caro gasolio relativo agli anni 2009 e 2010 e ha messo a bando altri 3 milioni di euro per il 2011 così come autorizza la legge regionale 25 dello scorso anno. Con l'obiettivo ha sottolineato l'assessore regionale della pesca Francesco Aiello di accelerare la verifica delle pendenze per corrispondere alle attese delle marinerie. Tra l'altro ha aggiunto l'assessore l'impennata dei prezzi del gasolio sta avendo effetti traumatici per le imprese pescherecce. Non bisogna dimenticare che in Sicilia abbiamo la marineria più grande del Mediterraneo non si può assistere passivamente alla dismissione di battelli. In una congiuntura così complessa caro gasolio stretta creditizia calo dei consumi a cui si aggiungono i danni del fermo biologico seppur legittimo e importante per la tutela delle risorse marine stanno mettendo in ginocchio l'intera filiera ittica. Presentata la mozione di sfiducia al Lombardo targata Udcpd tre deputati democratici però non firmano sono Salvatore Termini Massimo Ferrara e Giuseppe Picciolo per Cracolici capogruppo del PD all'Ars il problema non è quando votare la mozione di sfiducia ma quando andare a votare sentiamo sono 30 parlamentari di PD e Udc che hanno firmato la mozione di sfiducia al governo Raffaele Lombardo l'atto è stato condiviso da tutti i deputati dell'Udc e da 22 parlamentari del PD su 25 che fanno parte del gruppo all'Ars non hanno firmato Salvatore Termini Massimo Ferrara e Giuseppe Picciolo si tratta di scelta individuale dei tre colleghi ha detto il capogruppo del PD all'Ars Antonello Cracolici in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni assieme al capogruppo dell'Udc Giulia Adamo la mozione di sfiducia al Lombardo firmata dal PD e dall'Udc è un atto politico non un mero atto parlamentare stiamo lavorando perché questo atto abbia una ricaduta sul piano elettorale perché mi sembra chiaro che si andrà a votare a ottobre ha poi aggiunto Cracolici per spiegare le ragioni della mozione congiunta per la sfiducia al governatore è evidente che non potrei mai sostenere le ragioni del PD è ovvio conclude Cracolici dunque bisogna trovare una soluzione tecnica per questo motivo mi confronterò nelle prossime ore con altri gruppi parlamentari e prossima settimana convocherò il mio gruppo per fare il punto ma il problema non è quando votare la mozione di sfiducia ma quando andare a votare tenendo conto degli adempimenti tecnici necessari adesso parliamo di una vicenda triste vicenda perché c'è scappato il morto che è successo all'ospedale Cervello di Palermo i medici lo hanno rimandato a casa ma muore il giorno dopo pensate sentiamo i particolari nel servizio si rega all'ospedale Cervello per un gonfiore al collo ma dopo un'ora di attesa seguita da una breve visita i medici l'hanno rimandato a casa il giorno dopo è morto la procura ha aperto un'inchiesta un notevole gonfiore al collo e di respiro alquanto affannoso questi malesseri che hanno indotto Gioacchino Castiglione 59enne a recarsi domenica al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo dopo aver atteso un'ora e dieci minuti il suo turno con il codice verde all'uomo è stata effettuata una radiografia e sono state prescritte alcune analisi si consiglia una visita endocrinologica ad un'attacca al collo e al torace così si legge nella cartella clinica sottoposta a sequestro dal PM Pierangelo Padova subito dopo i medici l'hanno dimesso non ritenendo opportuno ricoverarlo per sottoporlo ad ulteriori accertamenti l'uomo che gestiva con la moglie una tabaccheria a Borgo Nuovo è morto 24 ore dopo in strada mentre andava verso lo studio del suo medico curante i parenti hanno presentato esposte ai carabinieri e chiedono che sia fatta piena luce sulla vicenda il PM ha disposto l'autopsia per accertare la reale causa della morte del paziente e nel mentre saranno sentiti alcuni testimoni ci sono importanti novità per quanto riguarda la piscina comunale di Terrasini nuove aperture nuovi orari sentiamo il servizio sarà aperta anche la mattina dopo le polemiche che hanno investito la piscina comunale per i turni di apertura al pubblico troppo limitati arriva una soluzione che dovrebbe calmare le acque da diversi mesi cerchiamo di rendere fruibile in modo continuativo la piscina dice il sindaco Massimo Cucinella e in particolare adesso con l'inizio della stagione estiva grazie alla richiesta della società Iron Team alla quale abbiamo concesso la disponibilità delle corsie possiamo aprire l'impianto anche nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 13 la società svolgerà le sue attività con corsi di nuoto pallannuoto e nuoto sincronizzato in 6 delle 8 corsie è accolto la richiesta del comune di garantire anche l'assistenza ai bagnanti per le due riservate al nuoto libero è una felice interazione tra pubblico e privato aggiunge l'assessore allo sport Roberto Conigliaro l'unico modo vista le scarse finanze di poter garantire in tutti i settori attività e servizi apriamo la pagina della cultura i giorni della vendemmia così si intitola il film del neoregista Marco Orrighi domani l'anteprima palermitana nella multisala Gadium il film sarà in programmazione dal prossimo 28 giugno sentiamo i giorni della vendemmia così si intitola il film del neoregista Marco Orrighi l'educazione sentimentale è il tema dominante di quest'opera realizzata grazie ad una truppa di giovani appassionati di età media inferiore a 26 anni che hanno da subito creduto nel progetto un film ispirato allo scrittore Pier Vittorio Tondelli di cui una citazione da altri libertini apre il lungometraggio i giorni della vendemmia comincia con la prematura scomparsa di Enrico Berlinguer e racconta l'educazione sentimentale di un adolescente stretto nella morsa tra l'arrivo di una giovane sua dente e di ritorno degli inconcludente ma carismatico fratello si tratta della prima opera per il giovanissimo regista Emiliano Marco Orrighi prodotta dalla piccola Ierà di Simona Malagoli produttore e distributore del film il film girato senza alcun finanziamento pubblico dopo 22 festival internazionali nel 2012 ha ottenuto l'interesse culturale nazionale del MIGBAC e sta diventando un piccolo caso cinematografico girando per l'Italia e riscuotendo consenso di pubblico e critica in Sicilia il successo è stato straordinario per l'opera per quattro settimane il film è stato in programmazione al cine studio di Catania un vero record domani l'anteprima palermitana nella multisala Gaudium in cui il film sarà in programmazione fino al 28 giugno come si sta bene qui? strane voi cittadini vi piace tanto la campagna poi non ci restate mai? e restando nell'ambito della pagina della cultura parliamo di un libro scritto da un insegnante di Partinico molto conosciuta in paese Anna Lupo il titolo del libro Nel silenzio del mio giardino un libro che verrà presentato sabato o pomeriggio al convento dei carmelitani questa mattina c'è stata una conferenza stampa per la presentazione dell'iniziativa sentiamo Nel silenzio del mio giardino così si intitola il libro dell'insegnante partinicese Anna Lupo una raccolta di 76 poesie autobiografiche nata come una sorta di diario personale ma subito notata da alcuni studiosi appassionati di letteratura come il preside del liceo Garibaldi di Palermo professore Marturana che ha spronato l'autrice a contattare la casa editrice la Zisa l'editore il dottor Davide Romano letti alcuni versi si è subito convinto per la pubblicazione di una raccolta suddivisa in 76 poesie autobiografiche non ho grandi ambizioni letterarie affermato l'autrice queste poesie sono nate da riflessioni ispirate dalla mia vita quotidiana la scelta di fare il salto di qualità con questo libro è nata soprattutto dalla volontà di lanciare un messaggio d'amore e di speranza l'opera sarà presentata sabato pomeriggio presso il Palazzo dei Carmelitani in cui avrà luogo la lettura pubblica di alcune poesie estrapolate dal libro i brani saranno letti dagli studenti di recitazione partinicesi Mirko Manzella e Dalia Loduca accompagnati alle musiche di pianoforte del maestro Saverio Pirrone come nasce l'idea di scrivere questo libro? è una testimonianza immaginativa emozionale dove vengono fissate tutte le mie emozioni che riguardano le mie condizioni di mamma di sposa di figlia di moglie e poi soprattutto l'amore che ho per la natura infatti il titolo del libro è Nel silenzio del mio giardino quindi qual è il tema dominante? la natura e i sentimenti a chi è dedicato questo libro? ai miei figli la compagnia low cost Volotea inaugura domani il primo volo Palermo Olbia e il 24 giugno la tratta verso Ibiza dal primo luglio decolla l'ottavo collegamento di Volotea con destinazione Palma di Maiorca con Olbia Ibiza e Palma di Maiorca sale a otto il numero delle tratte Volotea che toccano all'aeroporto palermitano e che prevedono collegamenti diretti anche verso Bordeaux Ancona Genova Trieste Venezia per tutto il periodo estivo dopo sei mesi si sono conclusi i lavori di restauro della piazza Duomo di Terrasini una nuova pavimentazione la sostituzione degli alberi e dell'impianto di illuminazione l'inaugurazione della piazza è in programma per domenica sera alle ore 20 e adesso prima di chiudere vi ricordo che subito dopo la sigla del Tg ci sarà uno speciale dedicato alla delocalizzazione della distilleria Bertolino se ne è parlato ieri nel corso di un convegno la convenzione tra la titolare della distilleria e il comune di Partinico è in discussione questa sera nel consiglio comunale è tutto per il momento vi ricordo che l'informazione aggiornata la trovate sul nostro sito internet www.tv7partinico.it buon proseguimento di serata sulla nostra rete